3 febbraio 1809, nasce ad Hamburgo il compositore e direttore d'orchestra Jakob Ludwig Felix Mendelssohn-Bartoldi. Ad appena 20 anni, Mendelssohn dirige per la prima volta La passione secondo Matteo di Bach, opera ormai dimenticata e mai più interpretata dopo la morte di Bach. Con questo ritrovamento contribuisce in modo decisivo alla riscoperta della musica bachiana. Nel 1844, tre anni prima della morte, Mendelssohn compone le musiche di scena per Il sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare, che ottengono un consenso generale.